Gli esponenti del mondo culturale della Bergamasca e della Valle Camonica riuniti attorno ad una porchetta. Si è ripetuta anche quest'anno la cena della porchetta, tradizionale appuntamento organizzato nella sede degli Alpini di Sovere da Sergio Del Bello. Siamo cresciuti, quest'anno ci sono parecchie novità, come del resto ogni anno, ma quest'anno l'adesione da parte di esponenti del mondo della cultura, esponenti dei musei, centri culturali è abbastanza consistente, ho gente che viene da Bergamo, viene dalla Val Camonica, addirittura da Lodi, abbiamo qui il direttore dell'archivio storico comunale di Lodi, abbiamo il conservatorio del museo della Guerra Bianca, insomma quest'anno la partecipazione del mondo della cultura è significativo e consistente, quindi come se non si può essere felici e contenti. Presente la serata anche la nostra Anna Carissoni. La serata della porchetta è certo originale e simpatica, ma costituisce fondamentalmente un pretesto per incontrarsi, perché siamo persone che si conoscono in occasione dei convegni dei tramontani, a questo punto bisogna spiegare chi sono i tramontani, sono gli appartenenti a varie associazioni culturali di tutto l'arco alpino, indipendentemente dal fatto che sia quello italiano, quello francese, quello austriaco, quello svizzero. In questo contesto si fa ogni anno un convegno, un convegno che è itinerante appunto, e questa sera dovremmo anche decidere la sede del convegno dell'anno prossimo. A Sovere era presente anche Walter Berotti, presidente del Museo della Guerra Bianca. Ah, sono venuto a questo incontro a Sovere su proposta dell'amico Sergio Del Bello, che conosco ormai da tempo, con quale ho un ottimo rapporto e sono stato invitato a partecipare a questo cenacolo della porchetta, in questa occasione dove ci si incontra con altri che si danno da fare, diciamo, nel punto di vista culturale, quindi credo che sia per me anche una novità, ma sicuramente una cosa positiva. Grazie. 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 Grazie.